Don Walter Insero, la sua consueta rubrica quindicinale, accanto a lui il nostro Jacopo. Allora Don Walter, questa copertina di Maurizio Gianotti ha riassunto benissimo ciò che è accaduto 15 giorni fa. Ripartiamo dalla considerazione di Alberto Di Cerbo, uno dei concorrenti che citava De Andrè, e anche della domanda finale che Gianotti fa nella scheda. Ci si domanda di fronte, siamo al sesto giorno di guerra, dove si trova Dio? Sono domande naturali che vengono spontanee. Mi veniva in mente, guardando queste immagini, quando Papa Francesco è andato ad Auschwitz e alla fine non ha fatto nessun discorso, vedendo le testimonianze dell'orrore di quanto l'uomo può fare che nemmeno le bestie, gli animali, possono arrivare a tanto. Dinanzi proprio al male per eccellenza, lui disse non ho fatto nessun discorso, perché lì c'è solo il silenzio, non riusciamo a capire il mistero del male, il mistero che l'uomo purtroppo nella sua libertà può accettare e compiere. E allora vedendo queste immagini che purtroppo rendono l'attualità, che siamo ancora attoniti nel vedere tante guerre, questa guerra nel Medio Oriente, allora Dio che può fare? Rispetto alla canzone di D'Andrea, tra l'altro che ho sentito, Dio è stanco, è occupato in troppe questioni universali, è diventato un po' sordo nel frattempo. Alla luce della mia esperienza ho visto che alcune preghiere che sembrano non esaudite non sono inascoltate. Dio ascolta la preghiera. Noi abbiamo una percezione utilitaristica anche della preghiera. Vorremmo che chiediamo un po' come modello lampada di Aladino. Una novena, una preghiera, diamo una strofinata e tutto si compie. Ma non è così. Perché ci vuole spesso tempo, perché quello che abbiamo desiderato si realizzi. Vi devo dire che a me è capitato a volte di chiedere alcune cose, di non riceverle e di ricevere molto meglio. In un altro modo ho detto questa preghiera è stata esaudita anche se ho pensato per un tempo che Dio non mi avesse ascoltato. Quindi si tratta di capire quello che è veramente il bene per noi. A volte quando Dio non ci risponde, non ci dà quello che abbiamo chiesto con insistenza, magari ci sta preparando un regalo più bello che ci arriva. Chi è che di voi vuole iniziare il dialogo con Don Walter? Io se posso vorrei nel mio piccolo dare una piccola testimonianza di fede. All'inizio di quest'anno sono stato vittima di un incidente. Sono stato investito, ero in montagna, nella pista degli slittini. Io non pensavo potesse accadere una cosa del genere, ma ero sdraiato sulla pista. A un certo punto due ragazzi sconsideratamente alle prime armi cambiano corsia e mi vengono dritti in testa. Questo è un racconto su cui ancora mi emoziono, perché non ne ho mai parlato apertamente. E in quel momento io non so bene cosa ho provato, non so spiegarlo, però ho avuto paura. E quando poi in ambulanza c'era mia sorella che mi teneva la mano, io piangevo. E mi ricordo questo momento in cui non sapevo come sarebbe andato a finire. E in quel momento io ho pregato. Di solito non uso pregare, non sono molto affezionato alla preghiera, anche se credo in qualcosa. Tu vuoi dire che per un ragazzo della tua età di 18 anni, laddove non si è sorretti dalla fede, comunque si ricorre alla preghiera nei momenti di difficoltà. Dio ci ascolta anche se non crediamo o se non lo onoriamo nei giorni ordinari, diciamo, non in quelli straordinari. Ma per Dio siamo tutti figli. E' un figlio che è nel bisogno, nella paura, in un momento di grande terrore. E' chiaro che ti è stato vicino e forse tu non solo hai pregato, ti è venuto naturale perché è un anelito che nasce da dentro, una richiesta, ma ti sei sentito forse anche rassicurato. Moltissimo, devo dire che in quel momento l'unica forza è stata il pregare qualcosa che non potevo vedere. Come l'hai pregato? Mi ricordo che ero in ambulanza, tra l'altro. Attraverso una preghiera o attraverso delle frasi tue? Sì, ricordo che ero così e piangevo e pensavo Dio, universo, qualunque cosa ci sia perché si può credere in quello che si vuole. E pensavo qual è il mio scopo nella vita, devo morire ora, è questo il mio momento. E più tardi in ospedale, quando mi hanno detto i risultati, trauma cranico, eccetera, eccetera, i dottori mi hanno detto, Manuel tu sei vivo per miracolo, perché a 100 km orari due ragazzi che ti vengono con lo slittino in testa, non c'è spiegazione. Ma è possibile pensare, scusami Don Walter, che la mano di Dio si è posata su questo ragazzo? Certo, io credo che tanti di noi abbiamo esperienze in cui proprio la mano di Dio, noi abbiamo, io dico spesso che noi abbiamo la mano del Signore sulla testa, che ci protegge, che ci guida, abbiamo l'angelo custode che ci custodisce, quindi lui ha sentito, penso, questa percezione, poi sono cose difficili anche da esprimere, ma tu hai fatto una preghiera sincera nel momento del bisogno, perché la preghiera nasce dal sentirci piccoli, inermi, dal sentirci incapaci di fare con le nostre forze.